Buonasera, benvenuti al nostro appuntamento con la voce delle istituzioni. Quest'oggi parliamo di Ponte nelle Alpi con il sindaco Paolo Vendramini che è nostro ospite. Grazie dell'invito. A Ponte nelle Alpi, partirei subito da una notizia di qualche giorno fa, avete avuto finalmente un passaggio sul PAT che attendevate da molto tempo ma che rappresenta lo scheletro su cui puoi imbastire molti ragionamenti a livello di programmazione. Certo, il Consiglio Provinciale si è riunito proprio a Ponte nelle Alpi nella nostra sala consigliare e è stato ratificato il PAT che è il piano di assetto territoriale del Comune di Ponte nelle Alpi. C'è una copianificazione tra Provincia di Belluno, Regione Veneto e Comune di Ponte nelle Alpi. Dopo circa 15 anni è stato approvato e quindi abbiamo la nuova geografia del Comune di Ponte nelle Alpi sotto tutti gli aspetti. È una cornice importantissima che va dall'assetto idrogeologico a quello geologico ambientale. Ora possiamo attivare il PI che è il piano degli interventi che sarà approvato in un anno. Il Comune di Ponte nelle Alpi ha dato l'incarico ad un tecnico che è l'architetto Gobbo che avrà il compito di sentire le categorie, i professionisti, i cittadini per piccoli interventi. Si tratta di valorizzazione delle frazioni, di riqualificazione di case, di abitazioni, anche le categorie commerciali o imprenditoriali potranno verificare se è possibile un aumento, tenendo conto quello ovviamente che è il consumo di suolo, le infrastrutture, però è una grande opportunità per disegnare il presente e il futuro di Ponte nelle Alpi. Si chiama anche piano del sindaco, ma io vorrei utilizzare la parola etimologica di sindaco che è sindux, quindi fare insieme, quindi progettare il territorio di Ponte nelle Alpi insieme a tutta la comunità. Ecco perché con l'ufficio tecnico edilizia urbanistica, che ringrazio per tutti questi anni di lavoro, faremo degli incontri con la popolazione per spiegare quali potenzialità e opportunità ci sono col piano degli interventi, ovviamente con i professionisti e tutte le categorie. Sì, diciamo che questa è veramente la piattaforma su cui costruire poi tutti gli interventi futuri. È la piattaforma, il PAT è la piattaforma per costruire tutti gli interventi, si chiamano anche microinterventi, quindi dare la possibilità di sviluppare le lottizzazioni che magari sono ferme da anni, un imprenditore che vuole ampliare la propria azienda, la parte delle edificazioni e della pericolazione urbanistica, quindi se qualcuno da Ponte nelle Alpi vuole salire e urbanizzare nei Coi di Epera oppure nell'Oltre Rai, ecco ci sono tantissime possibilità che vanno spiegate, quindi faremo un'informazione capillare a tutta la popolazione su questi incontri, su uno sportello che si aprirà in comune di Ponte nelle Alpi, perché il metodo di lavoro della nostra amministrazione è quella di concertare insieme, quella di condividere tutti i progetti con la popolazione. Ecco, e poi avete delle opere pubbliche in corso di realizzazione, altre che verranno realizzate? Sì, le opere pubbliche sono tantissime, abbiamo poi intercettato notevoli contributi anche per quanto riguarda il PNRR, quindi si parte dai marciapiedi, quindi la messa in sicurezza di Viale Cadore, che è una zona dove ci sono nuovi insediamenti produttivi, artigianali e commerciali, è la via, la statale che porta verso Longarone e quindi il Cadore, un contributo di 700 mila euro con cui possiamo fare il secondo stralcio dei marciapiedi, quindi arrivare sino alla zona di Cima Ipra e poi al bivio di Ponte nelle Alpi, è un marciapiede che può essere anche utilizzato comunque dalle biciclette. Dopodiché un altro milione di euro l'abbiamo intercettato per il sottopasso di Nuova Erto, per metterlo in sicurezza per la regimazione delle acque e un ulteriore milione per il palazzetto dello sport che sarà completamente riqualificato, rimesso a disposizione di tutte quelle che sono le nostre associazioni sportive, ma sarà anche un palazzetto di tutto l'istituto comprensivo scolastico di Ponte nelle Alpi, anche quello il progetto è già avanzato. E poi ci sono tutte le iniziative delle nostre frazioni, a partire dalla nostra frazione più alta, che è quella di Quanting, il Pala Quanting, che troverà di nuovo vita quest'estate con diverse iniziative, e poi la piazza di Cugnan. Stiamo lavorando anche su un nuovo spazio parcheggi a Ronkang, è un parco giochi che verrà sviluppato a Vic. Dopodiché anche la zona dell'Oltre Rai, con il rinnovo di tutti i parchi gioco, stiamo anche lavorando per riqualificare le ex latterie. Sono un patrimonio per la nostra comunità, è una storia lunghissima di cooperazione, di dedizione alla comunità, di mutuo aiuto. E quindi adesso abbiamo lavorato con il comitato frazionale di Cugnan per rimettere a posto la ex latteria e diventa spazio sociale della comunità. Lo faremo anche ad Arsie e a tutti quei comitati frazionali che ne faranno richiesta. È fondamentale, noi abbiamo 21 frazioni, 76 associazioni di volontariato, è fondamentale dare loro vita e possibilità di fare iniziative, manifestazioni nel nostro territorio. Ecco, le opere pubbliche che hai elencato sono molte, veniamo da un periodo che ancora non è finito, di difficoltà sotto il punto di vista magari degli appalti, dell'affidamento a lavori, perché alle volte c'è proprio un problema di conti, perché è salito il costo dei materiali e spesso le imprese fanno fatica. Diciamo che abbiamo trovato nel nostro percorso degli uffici qualificati che ci hanno permesso di fare bandi e gare ad hoc, ma anche ditte di grande professionalità. Per dirle, i marciapiedi di Viale Cadore sono stati assegnati per gara alla ditta De Pra, che è una ditta tra l'altro del territorio e di Ponte nelle Alpi. Quindi tutte le ditte sono della provincia di Belluno, se ci sono difficoltà oppure i tempi si allungano per reperire gli strumenti, le attrezzature, voglio dire, ci comunicano solo e cerchiamo di concertare insieme la soluzione. Ma gravi ritardi non ce ne sono stati. Voglio dire che anche durante il periodo di Covid è stato inaugurato il Teatro Piero Bon di Paiane, che in questo periodo sta vivendo sia il Festival Nazionale Paolo De dedicato a Paolo Dego, con diverse compagnie che partecipano, ma anche una grande presenza di pubblico, la Biblioteca Civica di Ponte nelle Alpi, sempre molto frequentata. Recentemente abbiamo tenuto anche una conferenza e inaugurato una via in zona, dedicandola a Imel De Boito, che è la prima donna consigliere comunale di Ponte nelle Alpi, che ha portato avanti tante istanze dei cittadini, e il progetto, ad esempio, della scuola dell'infanzia di via De Zattieri. Dobbiamo rendere medito a queste persone che si sono impegnate nel nostro territorio, nella nostra comunità. Faremo qualcosa anche per delle figure di sindaci, come Vittorio Fregona e Giovanni Bortot, che nei loro mandati, insieme a tutti i collaboratori, hanno realizzato davvero interventi notevoli per il nostro territorio. E in qualche modo una comunità come Ponte nelle Alpi li deve ricordare. Lei ha citato diversi punti in cui si svolgono eventi e attività. Naturalmente i lavori si fanno, le strutture si riqualificano, si sistemano, però chiaramente poi è la vivacità culturale che deve emergere. E a Ponte nelle Alpi avete diverse realtà che sotto questo punto di vista si muovono molto. Sì, abbiamo funzionari, come ad esempio la nostra bibliotecaria Antonella Michelin, e tutto l'ufficio cultura che si prodigano per fare diverse iniziative. Infatti Ponte nelle Alpi è l'unico comune a livello provinciale che è città che legge, proprio per il suo impegno verso la lettura, verso la promozione dei libri, la bibliografia. Abbiamo tantissimi giovani che frequentano la nostra biblioteca e poi la rete dell'Istituto Comprensivo di Ponte nelle Alpi. Voglio promuovere una bellissima iniziativa che si chiama Corri Papà, è una podistica non competitiva che ritorna il 16 aprile, dopo due anni di stop. Ci sono sempre circa 1.500 partecipanti e si raccolgono fondi che andranno in beneficenza alle nostre scuole perché possano attivare laboratori di vario genere e iniziative culturali. Anche le scuole, ognuna delle nostre scuole ha una biblioteca di qualità dove c'è un elemento bibliografico importante, c'è sempre un insegnante dedicato anche alle biblioteche delle nostre scuole, fanno rete anche con le altre biblioteche provinciali e questo ci aiuta veramente a dare maggior cultura al nostro territorio e anche maggiore istruzione. E poi prosegue la promozione dei beni storici del vostro territorio, ne avete diversi, insomma anche molto antichi. Sì, voglio dire il nostro gonfalone rappresenta i tre castelli, il ponte sul Piave, il Piave stesso, le nostre bellissime montagne. Recentemente abbiamo fatto un'iniziativa con l'associazione Ecomuseo del Piave e la visita guidata a quella che noi abbiamo chiamato la piccola Stonehenge di Soccer. Infatti sopra la bella frazione storica di Soccer è stato individuato dal professor Mondin, che è degli amici del museo, una antica sepoltura dell'età del bronzo, quindi 3200 anni fa, con i Dolmen, con i Menhir, è un'area che va indagata ulteriormente, già la sovrintendenza ha fatto alcuni lavori di scavo, dobbiamo potenziarli, però in due giorni sono arrivati a Soccer con queste visite guidate oltre 200 turisti da tutto il Veneto. E quindi noi abbiamo un patrimonio culturale a livello provinciale, non solo a Ponte nelle Alpi, importantissimo e basta poco per poterlo far risultare, far emergere e valorizzare. L'anno scorso ci siamo concentrati sul parco reale dell'Avena d'Oro, vicino all'Astreghe. L'Avena d'Oro c'era un impiantro idroterapico, frequentato anche dalla regina Margherita, e la regina Margherita poi è quella che ha dato il là al cambiamento di nome di Ponte nelle Alpi, prima si chiamava Capo di Ponte fino al 1867, poi proprio la regina Margherita ha detto ma questa è una porta delle Dolomiti, è un ponte nelle Alpi, quindi l'hanno poi approvato in Consiglio Comunale e il Re successivamente ha approvato l'atto. Quindi ci sono tutte le caratteristiche perché la nostra comunità diventi porta delle Dolomiti. Prima abbiamo parlato del Piave, degli Zatteri, siamo in un periodo in cui sotto il punto di vista idrico c'è qualche preoccupazione a livello territoriale. A Ponte nelle Alpi c'è qualche pensiero in più per alcune zone che magari generalmente vanno un po' più in sofferenza? Devo dire che è stato fatto negli ultimi anni un lavoro di recupero di due acquedotti, uno è il Colcontron che è sopra Nuova Erto e il secondo è il Rio Salere. Questi due nuovi acquedotti che captano molta acqua danno anche risorse idriche nelle zone dell'Oltre Rai e dei Coi di Pera. L'anno scorso abbiamo sofferto in particolare nella zona di Quantin che dipende però da un acquedotto dell'Alpago. Io ritengo che il BIMGSP abbia fatto un programma di opere importante e quindi ci possa essere anche una mitigazione della crisi idrica anche se la situazione è molto grave, infatti il Presidente della Regione Veneto, Zaia, ha emanato un decreto in cui ci devono essere dei provvedimenti nella nostra provincia ma in tutto il Veneto sul risparmio dell'acqua. Diciamo che per lavare la macchina magari si può aspettare un attimo. Esatto, aspettiamo la pioggia magari se arriva. Per quanto riguarda invece un altro risparmio, quello energetico, a Ponte nelle Alpi c'è sempre stata questa attività di sensibilizzazione. Sì, io ringrazio l'assessore Pierluigi Dal Borgo per l'impegno che ci sta mettendo sulle comunità energetiche, c'è uno sportello energia in comune di Ponte nelle Alpi a cui i cittadini possono accedere. Ci sono molte aziende che hanno i pannelli fotovoltaici ma adesso stiamo pensando anche a realtà comunali come le scuole, la casa di riposo, il tetto dello stadio. Quindi è in corso uno studio e poi provvederemo ovviamente a concretizzarlo. Ecco, per quanto riguarda le comunità energetiche poi bisogna sempre specificare c'è la possibilità per il cittadino di agganciarsi. Certo, c'è la possibilità dei privati, dei commercianti, delle categorie, ma anche dei cittadini che devono partecipare a queste iniziative. Diciamo che è il chilometro zero dell'energia. È il chilometro zero, sì, sì, assolutamente. Grazie mille per essere stato con me. Grazie a lei, gentilissimo. E quindi ci vediamo al prossimo appuntamento con la voce delle istituzioni. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.